altro motivo per cui i kit comprati in rete, comprati in internet, vabbè però non è meglio farseli da solo, perché in un kit fatto da voi ci mettete solo quello che sapete già usare, in un kit preassemblato da qualcuno, fatto da Bear Grylls che è venduto in internet, ci sarà sicuramente il filo da pesca con gli ami e i piombini, tutti i kit preassemblati ce l'hanno sempre, è una fissa, ce l'hanno tutti, è la cosa meno utile del mondo, almeno non per pescare, cioè o siete già dei pescatori che sapete già pescare senza la canna, altrimenti la lenza la usate se vi si rompono le stringhe degli scarponi, fine. L'altra cosa fondamentale non è tanto l'avere le cose, per quello all'inizio abbiamo detto il primo step è avere le cose, sì però subito dopo, avete visto che è venuto fuori automaticamente da solo, è l'essere in grado di usarle, sapersele fare, saperle sfruttare al meglio, queste non sono risorse, sono strumenti, sono mezzi, quindi la cosa fondamentale una volta che ci sono i mezzi o che abbiamo capito come funzionano e sappiamo magari anche farceli, è saperli usare, la fregatura colossale è avere il mezzo e poi trovarsi lì e non sei in grado di fare.